Per la giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, io sono Loredana su Notizie Non Plica e per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che continueremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata di nuovi. Quindi se vi va rimanete con noi. Gaza, Netanyahu avverte che la guerra potrebbe continuare fino al 2025. Paneari, Sant'Anche, serve una norma che non lasci dei vuoti. Unione Europea, Movimento 5 Stelle, Europa, oggi ultima chiamata per raffossare il patto di stabilità. Prescrizioni serracchiane in governo crea caos a rischio delle risorse PNRR. Martin Scorsese, Sudicaprio, uno dei più grandi attori mai esistiti. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna Loredana.